L'acqua fuoresce copiosa dalle condutture del piano sovrastante, così ogni qualvolta che il linguilino utilizza il bagno, il piano sottostante si trasforma in un lago. Storia di pessima manutenzione, di soldi per interventi, tampone gettati al vento. Il bagno in uno degli alloggi popolari di Via Donna Lugata a Marina di Ragusa non è utilizzabile. Da mesi i residenti hanno chiesto all'ufficio tecnico comunale un intervento risolutivo. Praticamente ormai siamo stanche, stanche perché io e giustamente la signora Ruta, che sempre, la signora Ruta giustamente per i suoi motivi che non può utilizzare il bagno, io per i miei motivi perché giustamente ho tanto tre figli, anche se gli altri due sono un po' più grandetti, però c'è il piccolino che ha sei anni e con tutta quest'acqua che mi scende giù il bambino può prendere anche la corrente. Mi può anche rimanere folgorato vicino all'accensione della luce, quindi un provvedimento si deve prendere. Ormai non ce la facciamo più, siamo stanche. Quindi facciamo a più presto possibile qualcosa per risolvere questo problema, perché ho sempre l'acqua, ogni due giorni ho l'acqua che mi scende qua dal tetto. Mi hanno detto che soldi non ce n'è, che il problema non si può risolvere e quindi noi che dobbiamo fare? Qual è la soluzione per noi per vivere meglio? Perché in questa situazione non possiamo stare, perché io che sto in bagno e giustamente mi sto lavando e all'improvviso mi scende l'acqua dal tetto addosso, ho la specchiera che la posso buttare, perché con l'acqua si è gonfiata. Abbiamo il bagno che non ci possiamo neanche lavare, giustamente mi devo andare a lavare da mia mamma, la signora di sotto ha un bambino, non sappiamo più cosa fare. Il comune ha detto che mi dava 70 euro per fare il pavimento e due sacchi di cemento, basta, tutto qua. Ma abbiamo sempre la solita situazione, ha del 94 che sono qua, sempre le solite probleme. La signora Minacci di sotto ha lo stesso problema, ci corre acqua dal tetto, non sappiamo più cosa fare.